giuseppe non è social ieri ha provato a rispondere delle domande ed è proprio un boomer lo ammette anche lui e buongiorno buongiorno e buona pasquetta come va e come avete visto sono poco social purtroppo veramente e sono anche un po boomer visto e considerato le risposte che ho dato l'altro giorno nei messaggi privati e mamma mia che cosa ho combinato però sono anche questo miglioreremo anche in questo e oggi trascorreremo questa bellissima giornata immersi nella natura la mia campagna con tutta la mia famiglia con tutti i miei amici con tutta santa cristina che mi ha pioggiato in questo bellissimo percorso e voi e voi cosa fate di bello io aspetto le vostre risposte vi penso sempre vi ringrazio veramente di cuore per tutto l'appoggio che mi avete dato è un grosso saluto ci sentiamo presto baci intanto buona pasquetta a tutti e lui proverà ad essere più bravo sui social comunque complimenti